11 mezzi, 30 volontari, Friuli, Venezia, Giulia e Molise pronti a partire in direzione della Bosnia per aiutare le popolazioni alluvionate. Assessore, è sicuramente un'impresa non da poco. Noi anche questa volta dimostriamo di essere una regione virtuosa in questo campo, la nostra protezione civile è una lunga tradizione che viene confermata anche in questa occasione, ci richiamo a Bielina in questo comune al nord-est della Bosnia dove insieme a Sloveni, Austriaci e Turchi presteremo soccorso alle popolazioni colpite da questi gravi eventi e gli uomini volontari della protezione civile sono certi che come sempre dimostreranno il loro valore e terranno alta la bandiera di questa regione che rappresenta in questo momento di fatto il sistema Italia rispetto ai soccorsi in protezione civile unitamente al Molise. Si è lavorato anche per la sicurezza, la sicurezza degli stessi volontari che paltano naturalmente con tutte le garanzie necessarie. Assolutamente, come ho detto a loro adesso salutandoli prima della partenza, la nostra preoccupazione prima oltre che portare evidentemente aiuto alle popolazioni colpite da questi eventi è quella di garantire la loro sicurezza, è stata fatta la profilassi, è stato fatto uno scouting preventivo per verificare le zone in cui si recano, zone che come sapete sono state in anni abbastanza recenti colpite da eventi bellici e quindi presenza di mine, rischi di questo tipo, dovevano essere garantiti di presidiare un territorio che non avesse questo tipo di rischio. Siamo moderatamente certi di aver garantito questa condizione di operatività.